Musica Ho qui con me l'ultimo segretario del Partito Polare, prima ancora potrei dire tra gli ultimi democristiani, ma tra i primi fondatori del Partito Democratico, quindi un politico di lungo corso, che c'è altro da dire? Lo dica lei. Purtroppo sono accompagnato da queste notizie, sono stato nell'ultima segreteria dell'ADC e sono stato l'ultimo segretario del Partito Popolare italiano, che giuridicamente esiste ancora, per cui io giuridicamente sono ancora il segretario del Partito Popolare italiano perché come lei sa in Italia non si riesce a eliminare i partiti per una serie di ragioni, insomma, soprattutto se hanno del patrimonio e del contenzioso e ahimè, avendo il Partito Popolare ereditato il patrimonio della democrazia cristiana, ma anche tutti i debiti e tutto il contenzioso, a tanti anni di distanza ancora non siamo riusciti. Non deve pagarli lei però. No, no, io personalmente no. Per fortuna. Però, formalmente, nelle aule di tribunale sono ancora chiamati il segretario politico del Partito Popolare italiano. Lei imbarazza se dico che molti dicono di lei che è una bella persona? Sono uno di provincia, ecco, forse è giusto dire così. E quindi a Roma uno di provincia si nota perché ha delle abitudini che normalmente chi nasce in questo chilometro quadrato dove sono tutti i palazzi del potere, chi è vissuto per una vita intera ha acquisito anche le persone più per bene, sia chiaro, non sto esprimendo dei giudizi di loro, delle abitudini che in genere chi viene dalla provincia no. Quali abitudini? Beh, i salotti, gli orari, qua si pranza alle due, le tre del pomeriggio, si va a cena alle dieci di sera, sono robe che non hanno senso per uno che viene dalla provincia e si comincia a lavorare tardi, il mattino, sono tutte abitudini che normalmente chi viene dalla provincia non ha. Diciamola questa provincia, Reggio, Reggio Emilia. Reggio Emilia, che è una città nel suo piccolo abbastanza importante perché ha dato i Natali per rimanere in materia, ecco diciamo così, in tempi recenti, nell'ultima fase della vita della Repubblica e della Chiesa, della Chiesa ha dato i Natali per la verità non proprio Reggio Emilia, ma siamo alla diocese quella di Reggio Emilia, al Cardinal Ruini, a Don Giuseppe Dossetti, a Romano Prodi, quindi una piccola città in cui ci sono state allevate personalità importanti. Parti della vita politica degli ultimi anni. Sì, c'è stato un certo momento appunto quando Prodi era capo del governo e il Cardinal Ruini era Presidente della Chiesa. Reggio dominava. Reggio dominava. Era la capitale morale d'Italia. Beh, insomma, qualcosa del genere. Senta, però a Reggio, tanto per entrare subito in tema, crescere e nascere a Reggio, essere cristiani a Reggio, voler fare politica a Reggio, cioè il compromesso storico era inevitabile, siamo a Guareschi proprio, no? Ma guardi, l'Emilia, l'Emilia non comprende Bologna, Bologna è più papalina, noi emiliani scherziamo con i bolognesi appunto, perché sono più rotondi a Bologna, non fisicamente perché sono rotondo anch'io, ma sono meno spigolosi, insomma, sono abituati sempre ad accomodare tutto, ad aggiustare tutto, noi scherziamo con quelli di Bologna. Con i Santi. Sì, l'Emilia invece non è così, è stata anche terra di aspri conflitti, il dopoguerra è stato segnato da sangue che ha continuato a scorrere per anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, però la presenza così forte di un partito comunista così forte ha costretto anche i credenti in un qualche modo a una competizione di qualità, cioè noi non siamo nati al potere, anzi normalmente non ce l'avevate. non ce l'avevamo. Le dirò guardi, io sono stato collaboratore di Giuseppe Dossetti, di Don Giuseppe Dossetti e quando sono stato sollecitato a candidarmi al Parlamento nazionale, eravamo nell'87, molto tempo fa. Tra le persone che ho consultato c'è stato anche Don Giuseppe Dossetti, il quale ha detto vacci perché comincerà una stagione in cui la DC probabilmente dovrà per la prima volta sperimentare la condizione della minoranza, dell'opposizione e a Roma non sanno che la politica si fa anche se sia in minoranza e quindi un Emiliano che ha sempre fatto politica in minoranza e l'opposizione può servire per far capire loro che si vive anche, si fa politica anche dai banchi dell'opposizione. La politica l'ho sempre avuta nel sangue, diciamo così, ho sempre avuto una passione, un interesse per la politica. Il mio primo dibattito politico l'ho fatto che avevo 14 anni, le dirò questo. C'era il parlamentare del partito comunista della mia provincia che è venuto nella mia piccola frazione, io abitavo in una piccola frazione, Villa Gaida, il deputato, ho avuto poi una certa notorietà, Otello Montanari, venne a parlare perché l'attività pubblica nei piccoli centri gravitava dalla parrocchia alla cooperativa, la cooperativa era l'altro luogo dove si viveva una certa vita, i giovani c'era una sorta di oratorio di quelli che non frequentavano l'oratorio parrocchiale, insomma, il mio parroco mi ha detto ma tu devi andare là e mi ricordo benissimo quella prima serata quando due o tre giovani dell'azione cattolica hanno chiesto di parlare quando si è aperto il dibattito e leggevamo le nostre domandine che ci aveva scritto il parroco per la verità a proposito di Don Camillo e Peppuone, insomma, con i bigliettini come fanno anche tanti credenti alla preghiera dei fedeli durante la liturgia, insomma, con il bigliettino, con scritto il testo e poi se essi dal testo ti trovi subito in difficoltà, invece in quel caso io ho fatto le repliche, due repliche senza testo, quindi io ricordo che ho cominciato a 14 anni a discutere di politica pubblicamente. Chi non voleva morire democristiano si ritrova adesso e non è solo una battuta con un Presidente della Repubblica che viene ed è quel mondo. Lei naturalmente non ci vede nulla di negativo in questo ritorno della balena bianca come è stato definito. Non è più la balena bianca, è bene che lo si sappia e lo si dica, insomma, no? Quel partito è un partito che è nato in un contesto storico che non c'è più, è bene saperlo, insomma, un partito organizzato di cattolici in Italia, non solo è nato, ma ha potuto avere la maggioranza dei consensi per tanti anni perché vi erano condizioni storiche particolari, ecco, vi era la Chiesa che formava direttamente all'impegno sociale, ma soprattutto vi era il muro di Berlino, vi era la divisione, vi era il Partito Comunista, vi era un'alterità così radicale che ha costretto chi aveva altri pensieri ad organizzarsi e non c'è dubbio che i cattolici erano più preparati sin dall'Assemblea Costituente, sin dall'Assemblea Costituente, hanno finito per esercitare, se non un'egemonia, un'influenza importante perché erano preparati, avevano avuto la possibilità di prepararsi studiando autori transalpini, Maritain, Mounier, avevano un'idea di Stato democratico quando sono andati all'Assemblea Costituente che mi hanno finito per proporre e stavo dicendo imporre. Comunque, in quella tradizione culturale ci sono delle caratteristiche che sono preziosissime per capire il tempo in cui si vive. Veda la difficoltà, mi riferisco alla vecchia stagione politica, la difficoltà di chi ha fatto politica sempre guidato da una ideologia, è la difficoltà a capire un tempo e un mondo che sfugge alle categorie delle ideologie che ti hanno formato. La tradizione cristiana non è una tradizione ideologica, è una tradizione di principi, attorno ai principi costruissi sempre le risposte contemporanee col tempo che vivi e soprattutto questa tradizione che è una tradizione di grande libertà e libertà anche da schemi ideologici, ti consente di capire il tempo che vivi. Noi siamo soliti anche nel popolarismo europeo si diceva quali sono le caratteristiche di questa tradizione culturale? La centralità della persona, il personalismo, l'economia sociale di mercato, il mercato sì ma con finalità sociali e l'invenzione di questa tradizione che è stata l'Europa, l'unione politica europea. A parte l'ultima cosa che in qualche bozza c'è, le prime due caratteristiche non sono l'Europa dove pure il partito popolare è dominante, non c'è più la centralità della persona. Sì ma è cambiato tutto, la geografia anche europea, guardi io continuo a occupare, sono stato anche il Parlamento europeo, continuo a seguire con interesse, la centralità della persona c'è ancora, c'è nei trattati e c'è nella sostanza, l'economia sociale di mercato, certo c'è ancora, ma un conto quando il leader della Germania era Kohl e un conto quando era Merkel. Kohl proveniva da questa tradizione, ci credeva profondamente, ne è stato un protagonista, assieme ai democristiani italiani, per intenderci, sono state le due grandi democrazioni cristiane europee. La Merkel viene da una storia tutta diversa, come dire l'ha dovuta imparare questa tradizione. Per molti versi anche il rigidissimo Schäuble che appare e lo è obiettivamente un ministro delle finanze molto rigoroso, però questo tipo di sensibilità ce l'ha, perché il cattolicesimo sociale tedesco ha questo tipo di sensibilità. Comunque sono questi tre i cardini di questa tradizione culturale, se lei ci pensa sono diventati veramente patrimonio comune, per cui è vero che il colpo mortale alla democrazia cristiana l'ha dato a Tangentopoli, ma è anche vero che era arrivata al capolinea la sua funzione storica, la sua missione storica, perché era riuscito in un qualche modo, riuscita in un qualche modo a contagiare il sistema politico di questi principi. Poi io, le devo dire, sono molto contento dell'elezione di Mattarella. Anche perché è un suo amico? Ma sì, questo è un elemento non secondario nel mio giudizio, perché quando si è amici… E poi perché ha rischiato di andarci l'è? No, 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 ho rischiato. Beh, questo lo dicevano tutti. Vabbè, ma no, 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 non c'era il rischio. Avevate caratteristiche simili. Però stavo dicendo, io non mi sono… io ho stimato moltissimo Napolitano e giudico che la sua presidenza sia stata una presidenza importante e non l'ho vissuta da democratico, cioè da appartenere dal Partito Democratico come, come dire, una sorta di minorità perché era uno che veniva dal Partito Comunista. Napolitano è stato un grande presidente per gli italiani, c'è anche una grazia di Stato, ecco, ma insomma aveva tutte le caratteristiche Napolitano per essere in grado di rappresentare la maggioranza degli italiani. e Mattarella farà la stessa cosa, ma insomma dobbiamo liberarci anche di questi vecchi schemi. Orso no, è siciliano, ecco, nel senso che è molto riservato, molto discreto, ma non è per nulla orso, anzi, guardi, nei rapporti personali, interpersonali è anche molto simpatico. Ci si trovava spesso a cena con lui, Andreatta, Leopold Elia e mi colpivano le gare, un po' come i ragazzini, ecco, a chi ricordava di più o meglio, con maggiore precisione, la formazione di squadre di calcio di anni improbabili. dimmi la formazione della Provercelli del 1935, dimmi la formazione della Propatria o del Genova o del Toro del 1941. E era una gara tra loro due, vinceva Leopold Elia, ma anche Mattarella era molto, molto preparato. Lei con Mattarella ha condiviso anche l'amicizia fino in fondo, anche nel dolore grande, no? Sì, sì. Perché avete perso la moglie entrambi, immagino, in tempi abbastanza vicini. Con una persona riservata, come si vive insieme un momento così? Sì, un'esperienza di vuoto non facile da colmare rapidamente, poi ci sono tanti altri interessi, c'è la fede, nella fattispecie ha aiutato entrambi molto e per forza si parte da quell'esperienza per parlare di cose ultime, del senso della vita e soprattutto del prezzo che chi fa politica, ma anche involontariamente, persino inconsapevolmente fa pagare ai propri familiari. Capita spesso che i politici vengano denigrati, spesso ha ragione, ma mai si considera come l'attività politica che sostanzialmente prende una persona sette giorni alla settimana, per cui quando uno, un parlamentare, ritorna nel collegio, come si dice, riprende a lavorare un lavoro ancora più intenso, devi metterti in collegamento con i sindaci, con gli amministratori, con i cittadini e quindi lavori, non sei mai tranquillo, non hai mai uno spazio da dedicare totalmente alla famiglia. Questo è un rammarico che tutti quelli che fanno politica seriamente hanno, ma ci si accorge soprattutto quando scompare il compagno della tua vita, che cosa hai perso tu e che cosa hai fatto perdere a lui o a lei nella fattispecie. In questo breve tratto di strada, in una prospettiva più grande, sarà un piccolissimo pezzetto. Un piccolissimo pezzetto, ma anche i politici sono, come diceva Toto, uomini umani. Poi la fede li aiuta ovviamente a superare anche questa fase. Lei parla di un dolore personale. Io non volevo essere indiscreta, ma c'è un dolore che ci tocca a tutti, un dolore del mondo che è particolarmente forte in questo momento. Per alcuni la fede è consolatoria ed è il modo di chiudere così la questione o le questioni della vita. No, la fede non è una consolazione. La fede è qualcosa di molto più importante, il senso della vita per chi ci crede, per chi ha una fede. Occorre avere molto rispetto per chi non ce l'ha, ma molto, molto, molto. Perché la fede è un modo di vedere, per citare sempre un politico. Aldo Moro scrisse una volta una cosa molto bella sulla rivista della Fucci, dove diceva per qualificare i cattolici in politica, cioè quelli che hanno fede, i politici che hanno fede, è uno sguardo, è un modo di dare gerarchia alle cose. È qualche cosa anche di impercettibile, insomma, per chi non ce l'ha la fede, ma per chi ce l'ha, insomma, no? È veramente un senso della vita, ecco, che è una cosa… Cosa le ha passato per questo senso della vita a Don Giuseppe Dossetti? Beh, è stato sicuramente uno… Un maestro. Un mio maestro, insomma, ecco, lo ricordo, lo ricordo, vado spesso in giro anche a ricordarlo, perché c'è una certa nostalgia di personalità forti. Come diceva un suo amico, c'era il monaco nel politico e il politico nel monaco in Dossetti. Ma anche come umanità, era una persona ricca, no? Era una persona ricca, era un estroverso, straordinario, anche lui, per lui non si può dire, nel foro privato era simpatico, perché lui era anche nel foro pubblico, insomma, una personalità dirompente, straripante, insomma, no? Eppure era un monaco. Ed era un mistico anche. Era un mistico. Io ho vissuto la suggestione che Don Giuseppe Dossetti ha subito dall'esperienza monastica orientale. Riuscire a spogliarti totalmente di quello che sei. Io ho visto… la preparazione, mi ha sposato lui, la preparazione al matrimonio con mia moglie l'abbiamo fatta in una settimana santa di molti anni fa e ricordo che a un certo momento il mercoledì sera ha detto a noi due giorni. Adesso noi facciamo questi tre ultimi giorni, questo triduo finale, in totale digiuno e in totale veglia. Noi preghiamo per 24 ore al giorno, per tre giorni e non mangiamo. Non vi obblighiamo. Ha lasciato a me e a mia moglie una bottiglia di latte e del pane raffermo da inzuppare nel latte. Questo per dire qual'era la sfida che lui ha cercato di realizzare, insomma, con questo totale… ed era una personalità estroversa al massimo. E questa sua ricerca è della mortificazione della sua personalità per poter raggiungere una condizione di maggiore incontro con l'assoluto e dice che personaggio strano era. Lei nel 91 fu tra i pochissimi ad essere assolutamente contrario a un intervento armato dell'Italia che poi ci fu. Oggi siamo alla vigilia di un probabile nuovo intervento armato. Ma non c'è una guerra giusta? Non ci sono dei momenti in cui è necessario anche combattere? Ma guardi, a proposito di Iraq, credo che la storia ci abbia dimostrato quanto fosse sbagliato la guerra all'Iraq. Perché molto viene da lì. Molto viene da lì. Adesso credo che siamo di fronte a un momento che può essere davvero la vigilia di un altro intervento. L'importante è non farci prendere dalla fretta, dalla superficialità, dal dilettantismo. La cosa può essere fatta se è decisa dalle Nazioni Unite. Non solo perché noi abbiamo l'articolo 11 della Costituzione che è chiaro. Ma perché noi dobbiamo avere la preoccupazione di parlare a tutto il mondo musulmano e dimostrare che non è una guerra dell'Occidente contro i Saraceni. Qualche volta il rischio però è che mentre Roma discute è Sagunto Bruci. Sì, però se facciamo una cosa seriamente, se è l'uono che decide, capiscono che non è una nostra volontà in un qualche modo di aggredirli. Di neocolonialismo. Sembra una cosa importante. Guardi, la psicologia dei musulmani è una psicologia particolare. Abbiamo parlato di Dossetti. Io mi ricordo che Dossetti, appunto, ai tempi della guerra all'Ira, dice io non so quando, ma non so se fra 5, fra 10, fra 15 anni ci sarà una risposta. Una reazione. Quelli sono popoli con una memoria lunghissima e una capacità di vendetta proiettata nel tempo anche distante. Quando nel 2001, l'11 settembre, c'è stato l'abbattimento delle tori gemelle, a me è venuto in mente, ne hanno passati 10 anni, questa previsione. Allora dobbiamo non commettere errori. Allora deve essere l'ONU a decidere, non l'ONU che autorizza. Anche quando la Francia e l'Inghilterra hanno cominciato la guerra contro Gheddafi, l'ONU ha autorizzato, ma l'iniziativa era di questi due paesi e quindi diventava difficile dire che era l'ONU che aveva preso questa decisione. Sbagliata, tra l'altro. Totalmente sbagliata. Totalmente sbagliata. Anche perché quando si fa una cosa del genere bisogna avere poi l'idea di come sistemare le cose dopo. Dopo. Se non pensi al dopo, i politici a cosa servono? Se non hanno la capacità di valutare, di misurare le conseguenze, le ricadute. E quindi l'ONU deve decidere chi guida la coalizione di un intervento di questo genere, se sarà inevitabile farlo, non deve essere l'Italia. Ma non per codardia, per paura, perché siamo i soliti indecisi, ma noi abbiamo ragioni storiche per non essere noi a guidare l'operazione. Meglio se è un paese islamico, se è l'Egitto, se è l'Algeria. E noi facciamo parte evidentemente di una coalizione perché si tratta di evitare che l'Isis, il califato, diventi veramente il pericolo per l'intera umanità che già si intravede. Dicono di Pierluigi Castagnetti che abbia tre passioni, la montagna e si può capire la sfida, quello che lei ha detto, la fatica, il sacrificio, la voglia di andare in su, in alto. La montagna e reggio mica tante però. No, 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 io vado in alto. A ovest, a est, in alto. La Juventus? Fino adesso ci siamo. Fino adesso ci siamo, però mi deve dire quella storia di Putin perché vogliamo che sia pubblica. Siamo nel 2006 o 2007, non ricordo, al G8 dei Presidenti del Parlamento perché c'è il G8 dei capi di governo e sei mesi dopo nella stessa località c'è il G8 del Presidente del Parlamento. E lei era Presidente Vicario della Camera? Sì, dalla Camera andai io a rappresentare l'Italia a San Pietroburgo e a un certo momento il Presidente della Duma riceve una telefonata da Putin e gli dice se vuoi portare giù i tuoi ospiti a Soci, sono ben contento di incontrarli, eravamo appunto 8 Presidenti di Camere e appena sono entrato mi ha detto, ah Pierluigi, perché adesso c'è questa abitudine, nei consensi internazionali ci si chiama per nome anche se non si conosce, io ero piuttosto in imbarazzo e la prima cosa che mi ha detto dice ma allora come la mettiamo con la Juve che è in B e io sono rimasto di stucco, insomma di sasso ma… E ha capito cos'era il KGB? Eh ho capito sì, che lui sapeva tutto, lui è stata un'esperienza importante perché siamo stati lì un giorno a discutere… E quindi la Juventus e poi dicono la musica jazz? Sì Allora le chiedo una musica dell'anima, jazz o non jazz, fa lo stesso? Una musica di Mario Brunello, un violoncellista che io amo molto, non è proprio jazz, anzi non lo è, ma io ero amico anche di suo papà, ma è una figura molto interessante e ha scritto un libro molto bello, edito dal Mulino, sul silenzio e Mario Brunello appunto racconta il valore del silenzio come valore musicale e io credo che sia molto importante questo, considerare il silenzio non come un tempo perso ma come un tempo pieno e credo che in questo momento ce ne sarebbe bisogno anche in politica. Grazie, ce l'ascoltiamo allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.